sarà di livello 159 mila no quella non è una colonna occhio pesci no pesci pesci quello è un squalo quello è un squalo ragazzi c'è stato un attimino a cazzotti a mani inutile nella palude ma dai un megalodonte sei morto contro un megalodonte di livello 12 non lo so ci stiamo risvegliando già morti? che cazzo sta succedendo? pronto? dilophosauro? bene siamo spawnati che buce di chiurlo bene cominciamo bene perché siamo spawnati addosso a un dilophosauro abbiamo raccolto la nostra me oh ecco adesso si vede girati verso il dinosauro cosa si vede? il nome il nome livello e sesso livello 15 che direi che anche se è un herbivoro se gli andiamo a rompere i coglioni ci fa un culo quadro ah aspetta cos'è è plana sull'acqua? eh si è è diventato un water strike credo che non riesci più a salire godo vedi che l'ho fatto un bel gaspone la lava fatta male mamma mia mamma mia neanche nella playstation 1 abbiamo visto una texture del genere cos'è due tappeti che si stendono uno sopra l'altro sì vabbè abbiamo scoperto che c'è la lava però se tu motivi a mangiare bacche ma è incredibile ma non c'è un imodium in giro per la mappa scusate che sia più facile che trovi un tappo ci infiliamo una pietra in culo perché non si può andare avanti così e poi ci salutiamo ok a posto a livello disponibile attenzione vuoi costruire il campfire? dici? sei morto? morto l'ho detto no sei svenuto sei come sono svenuto? è venuto apri l'inventario apri l'inventario non te lo farò come faccio apri l'inventario se sono svenuto male? hai ragione anche tu niente sei morto ma come sei morto? è aggressiva io direi ha cagato ci ha pronto neutrale ti ha dato già il benvenuto neutrale ok lasciamola su neutrale però aspetta per farci seguire no adesso sei fuori no spetticchia ma sei fuori incredibile guarda che l'hai settata su aggressiva io non vorrei dire niente fischia falla fermare eh fischia fischia fai cucù ormai quella là a destra a destra fischia fermo tutti fischia neutrale giù fischia neutrale ma sei fuori o quanto è aggressiva la nostra spetticchia no no guarda che ti sminchia ti sminchia ti sminchia dove cazzo la sta buttata cosa succede? ecco addio di rufosauro no con tutto il bene ma cosa stai facendo ma spetticchia ma puoi guarda la pinna dello squaro in fondo ma anche lei signor coso orato poi alla fine siamo là in fondo sì non è che abbiamo fatto tantissima strada no però io mi metterei comincerei a stabilirmi tipo qua che è un po' più largo abbiamo un po' più di risorse io magari comincerei a far fuori questi spetticchi qua in zona così eh vabbè i spetticchi arriveranno sempre comunque io adesso vorrei provare a tamarne qualcuno a tamarne ancora meno ancora uno per avere un po' le chiappe riparate tutte femmine stai prendendo guarda guarda che in amore no si è spaccata no no corri corri sono andate a mangiare un po' il povero il vivoro che era l'inzone di cui ma mica guarda 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 quanti ha canic- Andiamo con le bollas di fuori Come penso male Considerando i due stracci che c'hai addosso Ma credo che c'è comunque un altro passaggio Arriva uno e si blocca l'altro Porca troia Aspetta, fermo, uno alla volta Fischia fermo singolo Mi sembra Stare all'asilo con i bambini Vieni I raptor magari Tirano più in cima Che ha meno difficoltà Siamo Sauri, Sauri, Sauri Sauri, pronto? Sei salita prima, ti ricordi? No, si è dimenticata Flutui, flutui Le code L'importante che abbiamo Sauri e Saurina Ha cagato anche Marami Era talmente tanto contenta Che se l'hai fatto Ti segue anche il parasau Non sali le scale Sale le montagne, Cristian Cos'è? Ma cos'è? No, non ci muori Aspetta Vi facciamo a Franca Che lì è pieno di sottovali La donna come freezer Quando entri nell'acqua Da sempre delle botte di freezer assurde Fa freddo Guarda, lì in basso a sinistra Cioè dice che c'è freddo Oh, 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 chi? Ho detto di non entrare Termi Negro Intervieni Puttana Di davanti ci sono degli spudicchi Ovvero, c'è raptor No, 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 no Questo, questo, questo M'ha visto? Non lo so Se m'ha visto sono morto Dov'è Terminegro? Non lo so Terminegro se la caverà Ma lui? Non lo so Dov'è andato quel cosino? Eccolo! Che bello! Ma cos'è? Lo voglio Prendilo! Lo prendi papà? No! Allora aspetta Di a quest'altro di andarsela Allora fischia Ah figlio della Guarda che ci stai morendo Guarda che ci sei morto C'è ancora lo stronzo lì che vola Non è che sei ancora Sei carognito? Sei carognito ancora con noi Credo che l'abbiamo ucciso No vabbè Vabbè Guardate Franca come è morta C'è l'inventario Prendiamo di tornare verso Quello cazzo è E' brutto forte ma no Se lo attacchi di farlo Aspetta se lo attacchi Questo ti fa un culo quadro Che cos'è qua in terra? Cos'è? Stava mangiando Ah ha ucciso un raptor Porca troia ha ucciso un raptor Niente proprio Vabbè facciamo gli avvoltoi Un raptor di livello 22 Niente proprio Io direi di non andare a cagar cazzo Sto coso così No no io volevo mandarci adosso I miei sputicchi ma What?